Salve cari oscuri, benvenuti a questa nuova puntata di Sonic Adventure Allora, dopo aver fatto il tempio, tocca alla sesta zona, Eggman Rocket Zone Che è anche quella più complicata da fare, direi Poi vorrei sapere perché ho due vite Qui è stato distrutto qualcosa da Eggman, immagino Comunque veramente, perché ho due vite? Di solito quando si fa Game Over e si fa il gioco Cioè, chi gioca Di solito hai tutte le piccole vite Ma Se qualcuno può darmi una spiegazione Merito a questo Meraviglia Ora Qui è meglio Fare un po' di salvatazzi, eh Non si sa mai Siccome... ecco appunto Che qui rischio parecchio Visto che praticamente sono... Di cielo Ancora Su... 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 Grazie a tutti. Ok, un pochino frenare. Ok, un po' di salvare. Perfetto. Ok, un po' di salvare. Ok, ho preso la zostra. Ok, un po' di salvare. 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 Ok. Ok. Ok, un po' di salvare. 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 ti farò un turno invincibile a cadere no ma è il tocco ok quindi voglio ripetere tante volte a salire quindi punto di salvataggio mi butto ma mi può andare avanti da questa parte perché magari ok ho fatto una cavolata io mi chiedo dove cavolo è tutto questo ma ovviamente ti chiedo per andare per fare il livello e io vado di più perché mi mandi di qui e non sei niente boh ok ho fatto una cavolo piccola e ho fatto una cavolo piccola ancora per spiegarlo di calze qui becchiare ok 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 Ok, che ho fatto? Sì, sì, qui ho fatto almeno due pizzeri separati, dei soliti due uniti, perché veramente questa zona è enorme. Un po' più voglio di sicuro. Vediamo quante volte. Via! E' pura. Sì, Sonic! Andate lì, non lo so. Oh, se l'ho fatta, finalmente. Sì, ma che cchia! Si sta anche scadendo il tempo. Mi restano 23 secondi che la farò. Ah, no. Ah, che propria piattaforma era, ok? No, 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 no. Andate, andate. Può essere così lungo questo livello? Spero che poi... ...il tempo. e lo conto subito. Insomma, mi sembra obbligo le cose. E vai, sono i vincide, qua serve. No! No! Del cavolo! No, 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 piano! No, 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 no! Vai, non c'è tanto che... ...e scariche... ...e spiffero. Che cavolo di più picciolo, qua? ... Qua sto perdendo i ring, li perdo, li prendo... ...è un continuo! ... 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 molto complicata allora salvo questo punto tu ti posso capirti qualcosa dai sto volando si oh cavolo raga quasi 20 minuti bene seconda parte del livello ma questo episodio raga termina qui per come è stata lunga questa prima zona veramente quindi raga lasciate like commentate condividete se volete iscrivetevi al mio secondo canale e al mio instagram e anche al mio canale sulla piattaforma viola che lascio qua tutti tre i link quindi ciao ciao